La chirurgia refrattiva è quella branca dell'oculistica indirizzata alla correzione dei difetti refrattivi dell'occhio che comprendono la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo e la presbiopia. Oggi è possibile correggere con grande precisione questi difetti utilizzando il laser decimeri, il laser femtosecondi, degli inserti intracorneali e delle lenti intraoculari. La scelta tra queste differenti tecniche dipende dal tipo di difetto da correggere, dalle caratteristiche dell'occhio e dall'età del paziente. Scopo di questa chirurgia è eliminare il difetto refrattivo e migliorare l'acuità visiva del paziente. Da un punto di vista pratico, scopo della chirurgia è di consentire al paziente di svolgere le normali attività come guidare, utilizzare il computer o leggere senza necessità di occhiali o lenti a contatto.